40 colonne d'acciaio per i 40 anni di oro Arezzo, così Beppe Angiolini racconta la storia di questa manifestazione che compie un importante compleanno. È un anniversario importante, in un momento importante di mercato, dove le nostre imprese ovviamente si confrontano anche con grandi attese, perché sappiamo che ci sono mercati che in qualche modo stanno dando segni di rallentamento, ma anche altri mercati che invece crescono molto. Quindi attraverso una grande, devo dire, passione, impegno delle imprese che ovviamente stanno anche rinnovando la loro mission, attraverso anche una visione diversa rispetto anche a quella tradizionale, avvicinandosi molto anche al mondo della moda. Quindi stanno davvero cercando di interpretare, presidiare il mercato con una grande, grande peso, perché sappiamo quanto sia importante il distretto Orafa d'Arezzo, che ancora è il primario e quello davvero di gran lunga, più importante e più pesante. La fiera Orafa retina è da sempre vetrina della miglior produzione di preziosi del paese. Questa fiera è nata 40 anni fa, nel 1980, proprio su iniziativa della Camera di Commercio, che ancora oggi detiene il marchio Orafa. In questi 40 anni, intorno alla fiera, è cresciuto il distretto Orafo. Vorrei ricordare che nel 1980 erano appena 370 le aziende Orafi iscritte in Camera di Commercio, oggi siamo a 1.200 aziende Orafi iscritte. La fiera ha contribuito a portare il gioiello retino nel mondo, chiamando i buyers qua ad Arezzo, ha contribuito a mettere in contatto il mondo dell'orificeria con i grandi stilisti. Siamo passati dalla produzione seriale alla produzione del gioiello, quindi veramente un'evoluzione straordinaria che si è creata grazie proprio alla fiera Oro Arezzo. Fino al 9 aprile le eccellenze produttive dei principali poli Orafi italiani proporranno i loro gioielli ad oltre 450 buyers, di cui l'80% internazionali provenienti da 60 paesi. Abbiamo una grande aspettativa, c'è stato un aumento delle pre-registrazioni, 450 buyer provenienti da tutto il mondo, sia mercati tradizionali che emergenti. Abbiamo una delegazione di 60 buyer provenienti dal Medio Oriente, di cui 30 da Dubai, 20 buyers Hong Kong e Cina e 40 dagli Stati Uniti. Quindi siamo in effervescenza, speriamo che il mercato un po' si riprenda.